Informazione e sensibilizzazione sulla donazione delle cellule staminali e del midollo osseo. Se ne è discusso questa mattina all'istituto Ferrari di Battipaglia in un convegno organizzato dall'associazione di volontariato Marco Iagulli Onlus. A partecipare il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese, i consiglieri regionali Franco Picarone e Michele Cammarano, il dirigente della scuola Ferrari Daniela Palma, il presidente dell'associazione Marco Iagulli Tiziana Iervolino ed il dottor Giuseppe Pipolo, ematologo presso l'ospedale di Battipaglia. L'associazione si muove tutto l'anno, noi ci occupiamo di bambini onco-ematologici. Questa è la settimana nazionale della donazione midollo osseo. Oggi siamo qui in convegno con diverse persone che parleranno proprio della donazione del midollo osseo e andremo a sensibilizzare i giovani quanto è importante la donazione del midollo osseo e quanto è importante l'iscrizione perché diversi sono i ragazzi che i bambini che aspettano un trapianto. Circa 400 bambini sono in attesa di trapianto di midollo osseo. Quindi noi oggi siamo qui per far sentire insomma la nostra forza a tutti i ragazzi e coinvolgerli, coinvolgerli all'iscrizione tra oggi, domani e dopodomani. Venerdì, sabato e domenica saremo qui all'istituto Ferrari dove sensibilizzeremo i ragazzi e dove ci saranno dei medici che vengono da Napoli e i nostri medici dell'associazione che aspetteranno i ragazzi per informarli e nel caso vogliono iscriversi nel registro noi siamo allora a disposizione dalle 19 alle 22. Mi raccomando cercate di esserci perché salvare una vita vi assicuro che è la cosa più bella che ci possa essere. Oggi è possibile la terapia attraverso il trapianto di midollo di numerose patologie che altrimenti non sarebbero curabili, trattabili e guaribili con altri sistemi tranne che con il trapianto. È fondamentale che ci sia una divulgazione quanto più diffusa possibile per poter trovare una sensibilità che spinga tante persone a iscriversi al registro dei donatori di midollo anche perché la ricerca di un donatore compatibile eventualmente con un paziente è rara nel senso che su una banca dati di 100.000 persone tanto per dare qualche nome noi troviamo un solo donatore compatibile quindi abbiamo bisogno di tante persone che offrano la loro disponibilità a poter essere analizzati e testati per poi eventualmente nel caso della presenza di un ammalato che necessiti di un trapianto trovare fra 100.000 persone una sola persona compatibile. Quindi abbiamo necessità di estendere enormemente la platea dei possibili candidati quindi diffondere soprattutto per le generazioni la sensibilità a questa tematica è fondamentale. Teniamo anche conto di un altro aspetto che ci spinge sempre di più verso il mondo giovanile perché i donatori iscritti al registro dei donatori di midollo vi restano iscritti fino a 35 anni non oltre dai 18 ai 35 e quindi Grazie a tutti.